Ah, forse è di sopra. Oh, oh. È come cercare di dormire in una giungla. Ma che stai facendo? Niente, niente. Stavo andando in bagno e ho calpestato un gatto. Non devi farlo di nascosto. Se vuoi andartene, vai. Oh, direi che mi sono svegliato sul lato sbagliato del letto. Ma non voglio ritornare sull'argomento. Addio, Charlie. Ehi, sembri molto arrabbiata. E perché dovrei esserlo? Perché vengo a Malibu ogni sera in macchina da tre settimane e tu non vuoi stare una notte da me? Beh, anche. E poi perché potrei averti rotto il gatto. Vattene a casa, Charlie. Sei sicura? Sì, ti prego. Ok. C'è questo che vuoi. E allora domani a casa mia? Quando fai l'amore sei una donna, ma hai la forza di un uomo. Jake? Perché stai dormendo qui? Stavo... campeggiando. D'accordo, purché non guardi la TV.